L'Associazione Temporanea Cooperative Uguaglianza torna all'attacco e lo fa mediante un'apposita conferenza stampa nella quale ha spiegato i motivi del proprio dissenso nei confronti di quanto asserito la scorsa settimana in merito alla partenza dei lavori di cantierizzazione del piano di zona 167 di Barletta prevista per febbraio 2009 ed in merito all'assegnazione dei suoli alle 37 cooperative aventi diritto Costantino Pastore, presidente dell'Associazione Temporanea Cooperative Uguaglianza Noi abbiamo anche diffidato l'avministrazione, quindi agli atti, invitandola a soprassedere per il momento perché ci sono ancora dei giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato, i nostri, una decina Miriamo ad avere 20 punti in più e miriamo alla esclusione di 26 cooperative perché per determina dello stesso architetto Gianferrini quel soggetto fu messo fuori perché i soldi li mandò come valuta il giorno in ritardo mentre ha accettato che 26 cooperative, attenzione, 26 cooperative e molte delle quali sono quelle che scalpitano perché siamo le prime dovrebbe metterle fuori Egregi colleghi delle cosiddette, no le cooperative sono reali, ma cosiddette vincitrici chiedetevi perché dovete versare questi soldi senza un atto di convenzione e se domani noi si vincesse il Consiglio di Stato chi esce fuori? Qualcuno dovrà uscire fuori perché noi dovremmo poi entrare 26 dovrebbero uscire fuori, altri entreranno Allora, queste sono le domande che avrei voluto porre al sindaco, all'assessore e al dirigente urbanistica regolarmente invitati però mi assumo la responsabilità non hanno avuto nemmeno il buon gusto il buon gusto, e non voglio usare altre aggettivazioni di giustificarsi pure a mezzo di una telefonata Grazie a tutti